E' il Natale dell'Anno Santo della Misericordia, perciò auguro a tutti di poter accogliere nella propria vita la misericordia di Dio, che Gesù Cristo ci ha donato, per essere misericordiosi con i nostri fratelli. Così faremo crescere la pace. Buon Natale! Con questo augurio dalla Loggia della Benedizione della Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha salutato le decine di migliaia di fedeli venuti per il messaggio natalizio e la benedizione urbi e torbi. In questo giorno di misericordia di pace, che Gesù stesso ha detto il Papa, ricordiamo che solo Lui ci può salvare. Solo la misericordia di Dio può liberare l'umanità da tante forme di male, a volte mostruose, che l'egoismo genera in essa. La grazia di Dio può convertire i cuori e aprire vie di uscita da situazioni umanamente insolubili. Perché, ha proseguito Francesco, dove nasce Dio nasce la speranza, dove nasce Dio nasce la pace e dove nasce la pace non c'è posto per l'odio e per la guerra. Ed ha ricordato che proprio dove il figlio di Dio ha fatto carne e venuto al mondo, israeliani e palestinesi devono ancora trovare un'intesa per convivere in armonia. Ha citato poi la gravissima situazione umanitaria della Siria, la Libia, l'Iraq, lo Yemen e l'Africa subsahariana, con le vittime delle stragi in Egitto, a Beirut, Parigi, Bamako e Tunisi. Papa Francesco ha chiesto a Gesù consolazione per i cristiani perseguitati nel mondo, i nostri martiri di oggi e pace per la Repubblica Democratica del Congo, il Burundi, il Sud Sudan, l'Ucraina e la Colombia. Ha chiesto speranza per i poveri, senza tetto, i bambini soldato, le donne che subiscono violenza e le vittime del narcotraffico. Speranza e degnità ha invocato infine per i migranti, i disoccupati e i carcerati.